Senza medici e dirigenti i reparti degli ospedali rischiano la chiusura. Da tempo le organizzazioni sindacali lamentano l'assenza di personale medico anche per quiescenza che pian piano stanno portando anche alla mancanza dei primari. È il caso dell'ospedale Gaetano Fucito di Mercato Sanseverino che questa mattina ha fatto partire una nuova richiesta della funzione pubblica CGL di Salerno all'indirizzo della direzione generale dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno. Un incontro con il segretario generale Antonio Capezzuto e i delegati RSU della funzione pubblica CGL dell'ospedale di Curteri ha permesso di analizzare le diverse criticità che riguardano il presidio e le preoccupazioni relativi alla carenza di personale sanitario e di medici con la necessità non più rinviabile del reclutamento di un ingento numero di dirigenti medici da destinare alla struttura per evitare la contrazione dei servizi assistenziali. Sebbene negli ultimi anni molti sono stati gli interventi migliorativi dal punto di vista tecnologico e strutturale in attesa dell'atto aziendale del Ruggi d'Aragona utile per valutare le strategie che si intendono adottare nei confronti del presidio ospedaliero di Mercato Sanseverino, per la CGL funzione pubblica è improrogabile un confronto con il direttore generale D'Amato per affrontare il tema della pianificazione dei servizi e della programmazione delle attività e per scongiurare una possibile contrazione di posti letto, reparti e servizi. Noi abbiamo fatto uno studio analitico che abbiamo anche consegnato a voi delle carenze che avremo in questo anno e nei prossimi mesi abbiamo reparti che adesso lavorano con due medici reparti tipo il pronto soccorso che nel giro di due mesi avranno un trasferimento per vincita di concorso in altra sede e un pensionamento per raggiunti limiti di età che creerà grossissime difficoltà di turni H24 quando oggi già non riescono a garantire per esempio al pronto soccorso il turno a due di notte già adesso di notte c'è un solo medico. Abbiamo la radiologia nella quale il primario è andato in pensione e due medici vincitori di concorsi in altra sede se ne andranno. Pertanto resteranno quattro dirigenti medici con i quali proprio conti alla mano è impossibile fare i turni H24 e così via. Vi ripeto abbiamo fatto un lavoro analitico di animazione mancano sette rianimatori cardiologia mancano quattro dirigenti e così via. Per noi questa situazione non si può sottacere perché per quanto ci riguarda può diventare il preludio di scelte drammatiche per questo presidio e in più l'eseguità di posti letto in alcune strutture per noi è una cosa che ci preoccupa molto perché tu quando cominci a fare un reparto con sette posti, dodici posti, prima o poi qualcuno dirà questi posti si possono spostare altrove. Come è successo in passato con pediatria e ginecologia. Questo territorio non si può consentire di perdere altri pezzi di sanità. Il presidio inoltre necessiterebbe di un intervento strutturale complessivo per superare le problematiche legate alla struttura divisa per padiglioni che necessita oggi più che mai di collegare i padiglioni al pronto soccorso. Noi abbiamo avuto in questa fase in questa struttura tantissimi interventi strutturali dal punto di vista del modernamento strutturale e tecnologico. Vi annuncio che fra pochi giorni avremo l'inaugurazione di una nuova TAC di ultimissima generazione. Abbiamo attrezzature in endoscopia all'avanguardia e così via. Però la problematica dei medici va affrontata con forza. L'altra cosa dal punto di vista strutturale che noi stiamo dicendo da tempo e facciamo un accorato appello con i fondi del PNRR va valutata e progettata una palazzina affiancata al pronto soccorso per fare in modo che venga mitigato il problema di un ospedale a padiglioni. Perché non è possibile avere un laboratorio analisi e una cardiologia che non siano collegate alle sale operatorie al pronto soccorso. Grazie.